Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sul sito di La Sette, particolarmente nella parte dedicata al Tg, c'è un video che così titola Sondaggio boccia Elislein come segretaria del Partito Democratico. Insomma, secondo quanto spiega La Sette, gli ultimi sondaggi rivelerebbero un indice non entusiasmante di gradimento per Elislein. In sostanza, dice La Sette, i sondaggi la bocciano. Come commentare dunque questo indice di gradimento non entusiasmante per Elislein? Non è difficile a mio giudizio commentarlo, se è vero come è vero che Elislein rappresenta appieno la New Left, o Rainbow Left se preferite, post-marxista, ultra-liberista, arcobalenica, dimentica delle classi lavoratrici e della lotta contro l'imperialismo, totalmente aperta alla visione ultracapitalistica del mondo, propria delle classi dominanti, aperta all'esportazione dei diritti umani, cioè dell'imperialismo, ancora aperta all'idea della concorrenza creativa, cioè al mondo del capitale. In sostanza, una sinistra che non soltanto ha dimenticato Marx e Gramsci, ma che letteralmente li ha sepolti per passare ad assumere lo sguardo di chi lassù in alto ci odia e ci avversa, le classi dominanti, il patriziato cosmopolitico, o se preferite ancora, il blocco oligarchico neoliberale. Con una sinistra come quella di Elish Line, davvero la destra stessa tende a diventare superflua, superata dalla sinistra stessa. L'abbiamo detto più volte, Elish Line rappresenta esattamente la tappa ultima della mutazione, come la chiama Luca Ricolfi, delle sinistre, o se preferite della metamorfosi kafkiana, o più precisamente l'approdo di una sinistra che è divenuta ciò che combatteva e che è divenuta di fatto la guardia fucsia della globalizzazione turbo-capitalistica. Questo e non altro rappresenta Elish Line, la fine di un'epoca, se preferite, la conversione integrale delle sinistre in guardie arcobaleno del padronato cosmopolitico e del grande capitale, di cui condividono appieno lo sguardo e la visione del mondo.